buongiorno a tutti bentornati sul canale cominciamo la settimana oggi è lunedì portando giù il cane al mattino presto perché ho dovuto aprire ai muratori che finiscono il garage speriamo di sta settimana di avere qualcosa di pronto per incominciare a fare qualche bel video giù in garage allora con il mio team abbiamo pensato di fare da questa settimana cioè la settimana 1 del 2021 un wiki blog che significa non l'ho capito però dovrebbe essere i fatti più salienti della settimana ripresi giorno per giorno e messi online la settimana dopo il penso mercoledì della settimana dopo quindi iniziamo con la bella cagata del cane che andrò a raccogliere ovviamente e poi tutti i momenti un po da condividere insieme a voi giorno per giorno tipo la mascherina degli avengers e siamo alla scelta del pacchetto da mettere ci sono tanti esposti ma disponibili pochi quindi per non andare a 70 euro al metro quadro le scelte sono ben poche e carrellino della spesa caricato tutto sul fulgoncino e si parte e siamo anche con i preparativi per il compleanno di my darling my darling happy birthday to you cosa mangiamo allora domani il purun due purun bagnan tloli vai youtube saluta i follower il compleanno bagnan tloli si sente ci siamo abbiamo quasi finito manca ancora il parquet ma tloli ok allora E' solo un po' di presa, il che si muove, i guardi, i tuoi, i tuoi, i tuoi... E' solo un trepiede! Ok! Due... Uno... Bene! Grazie a tutti! Siamo in zona gialla! Broin Life Gym! Broin Life Gym! Oggi grande allenamento! Al mattino! Grazie, è facile! Signori e signori, è arrivata la fine. Sto dando una passata al palchetto per pulire. Ci sono già due mensoline per metterci qualche coppa. L'angolo da nostalgia. Come vi sembra lì? Si vede una cintura. Panca! Il giorno in cantina dove non c'era segnale, non c'era niente, ho messo a posto tutto quello che ho traslocato dal garage per metterci le biciclette per avere un po' di spazio. Dopo vi faccio vedere come è venuto. Un po' il casinato però. Per la serie lavori impossibili, ecco quello che ho fatto oggi. Ho fatto un po' di spazio per le biciclette. Le ho pesa una lì e una al soffitto. Come una serie di carrucole. Speriamo che tenga. Se non mi sentite più perché questa... Che colore siamo oggi? Giallo? Verde? Blu? Sì. Non è presto. Eh sì, ma minchia troppo cisti. Che zona siamo oggi? Blu? Zona madonna di campagna. Domenica. Allora si torna a svegliarsi all'alba per portare i bambini agli scout. Era meglio quando si stava peggio. Svegliarsi presto al mattino e portare il figlio agli scout anche sui vantaggi. Torniamo alla Pellerina col cane contento. Allora a quest'ora all'alba praticamente. Dove l'unico motivo per cui essere qui è o hai cane o sei sportivo. E questo freddo... Cazzo di sportivi ce ne sono veramente pochi. Anche di cani ce n'è pochi. Attenti. Vieni a salutare dai. Ciao. Ok. Di domenica ci siamo. L'ultimo giorno della settimana. E facciamo un bel allenamento. Come non ho mai fatto. Vieni. Così. 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 Vieni. Così. Così. Vieni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.